Una bellissima giornata all'insegna dello sport ma all'insegna anche dell'amicizia, della coesione tra le diverse comunità che operano nella nostra regione. Sono molto contento che poi il tornello abbia vinto la comunità in dialogo e dimostrata di essere veramente una bellissima squadra affiatata con tanti giocatori che insieme hanno vinto. Non c'è stato un vincitore, tutti hanno giocato veramente dimostrando che esiste una grande unità. È un messaggio non soltanto per lo sport ma è un messaggio di vita. È un passo in avanti per vincere non soltanto col pallone ma vincere anche nella vita e sconfiggere droga e alcol e altre dipendenze.